L'estate di San Martino, col suo sole e le temperature miti, sfida il Covid e porta sui lungomare migliaia di persone. Mentre negli ospedali si rischia l'inferno per mancanza di posti letto, sembra essere caduto nel vuoto l'invito del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ad evitare gli assembramenti ed essere ancora più rigorosi nel rispetto delle regole. Non potevamo perderla. Con le giuste prevenzioni ci è dovuto fare una passeggiata. Purtroppo è una bella giornata così, come si fa? Non uscire, perché ci dobbiamo stare attenti tutti, perché è una cosa molto seria. La tensione è molto alta, soprattutto qui a Napoli, perché i contagi sono altissimi. Restiamo a distanza da tutti e da tutto. Speriamo bene. No, veramente non ho paura, perché il virus sta dappertutto, non sta solo a lungomare. E c'è tutto l'orario, non solo fino alle 6. Diciamo paura, paura no, perché chi vede paura non vive. Quindi facciamo attenzione e andiamo avanti. L'importante è stare attenti e punto, si vive. Io penso che è una cosa che non è tanto grave, secondo me, nel mio pensiero. E quindi spero che finisca più presto. Ma mentre a Pozzuoli il sindaco Figlioli ha deciso di chiudere fino al 16 novembre il lungomare, a Napoli De Magistris ha preferito lasciare liberi tutti. Eppure, sempre il primo cittadino, si dichiara a favore della zona rossa. È una decisione inevitabile, anzi tardiva, scrive l'ex PM sulla sua pagina social. Per il suo collega di Benevento, Clemente Mastella, Deema ha assunto un comportamento schizofrenico, irrispettoso dei nostri sacrifici e dei medici napoletani, che non riescono a tenere dietro all'arrivo continuo delle barelle. Molti sindaci, ed io con loro scontando l'impopolarità e non facendo calcoli elettorali, hanno chiuso i luoghi della movida e del traffico più intenso. Lo faccia anche il sindaco di Napoli, dice Mastella. Si assuma le sue responsabilità, non faccia giochi di parole, chiuda quanto gli altri hanno chiuso.